In questo video vedremo come personalizzare i layout di Active Inspire, vale a dire il modo in cui il programma si presenta all'utente. In effetti nella visualizzazione corrente noi abbiamo le due barre a sinistra e a destra e in alto. Questa non è necessariamente l'unica configurazione possibile del layout, ma ne esistono altre. A volte la configurazione dipende anche da come è disposta l'aula, la classe per esempio. Se infatti la cattedra è posta lontana dalla parte destra della limb, dove normalmente è questa barra, allora forse è più comodo invertire le posizioni delle due barre. Oppure, per chi non è molto alto, può essere utile magari cambiare la disposizione della barra superiore e metterla nella parte inferiore. Tutte queste modifiche sono molto semplici e si raggiungono attraverso il menu modifica e poi profili. Innanzitutto vediamo una cosa. Tramite questa finestra di dialogo notiamo subito che il programma, tramite questo menu a tendina, propone vari profili d'uso. Il profilo alla lavagna, infatti abbiamo visto cambiare tutto. il profilo creazione, che è quello che stiamo usando, e altri, che hanno tutti delle specifiche caratteristiche. Il profilo lingue tende ad avere gli accessi rapidi alle funzioni audio per ascoltare i testi. Il profilo matematica tende ad avere gli accessi rapidi alla funzione goniometro righello e multimediale, invece, ha le funzioni di inserimento file. Ora, questi sono i profili prestabiliti dal programma, ma possiamo crearne anche di nuove. Innanzitutto, però, provvediamo a modificare quello presente. Ora, innanzitutto, come vedete, ci sono varie tab e le vedremo uno a uno. Cominciamo da Layout. Ecco, Layout innanzitutto prevede la dimensione delle icone variabile. Ecco, io la sto modificando e, se fate caso, notiamo che le icone sulla parte destra sono diventate più grandi. Ripristino ora a 24 oppure più piccole. Poi, casella degli strumenti principali. In questo caso è ancorata al lato destro, però potrei, ecco qui, ancorarla al lato superiore. Oppure a quella inferiore. Oppure renderla mobile, vale a dire, spostabile all'occorrenza, che è forse una delle configurazioni più comode. Poi, possiamo stabilire il numero di colori. Al momento ne sono presenti 16 in 4 file da 4, ma se non abbiamo bisogno di tutti questi, possiamo guadagnare spazio impostandone 8. Eccoli qua. Oppure, al contrario, 24. Poi, casella degli strumenti doppia. Anche in questo caso possiamo scegliere se ancorarla al lato sinistro, al lato destro, o renderla mobile. Poi il browser. Browser vari. Noi abbiamo visto quello delle pagine, quello delle risorse, quello degli oggetti, le note, poi le proprietà e le azioni. Questo è il browser. Anche qui stessi identiche funzioni. Possiamo ancorarlo lato sinistro, destro mobile, bloccarlo, oppure renderlo non visibile. Valla a dire, è utile questa funzione nel momento in cui presentiamo una lezione, nella quale l'elenco delle pagine non ci interessa. Barra dei menu. Ecco, questa è una delle funzioni più importanti. La barra dei menu è questa. File, modifica, visualizza, inserisci strumenti. Questa barra dei menu è normalmente ancorata al lato superiore. Io consiglio di ancorarla, quello inferiore, nella programma in cui è installata fisicamente la LIM, perché si fa meno fatica a raggiungere naturalmente i menu nella parte bassa piuttosto che in quella alta. Per chi lavora invece al computer è completamente identico inserire la barra nella parte superiore o inferiore. E possiamo sceglierle se renderla visibile, infatti in questo caso non lo è, oppure ripristinarla. Lo stesso vale per le schede dei documenti, poi possiamo scegliere se mostrare il cestino, eccolo qui. Ora lo evidenziamo, eccolo qua. E possiamo eliminarlo o renderlo presente. E poi, e questo è abbastanza interessante, l'estensore pagina. Se io lo clicco, ecco che è comparso un tasto blu. Ora, cancello momentaneamente questo layout per vedere bene la funzione dell'estensore pagina. L'estensore pagina serve per allungare al bisogno la lunghezza di questa pagina. Questa pagina, infatti, ha, diciamo, una lunghezza sostanzialmente di questo tipo. È probabile che, specie di docenti di matematica, arrivati a questo punto, abbiano bisogno di andare ancora sotto. A quel punto le scelte sono due. Cambiare pagina, ma questo potrebbe interrompere un certo tipo di flusso di informazioni, oppure utilizzare l'estensore. Se io, infatti, ora che ho terminato lo spazio, clicco sull'estensore, la pagina si allunga un po'. E poi di nuovo. Questo lo vediamo bene nel thumbnail, vale a dire nella miniatura sinistra della pagina. Se, infatti, io ripristino a come era prima, qui vediamo che la pagina è più larga che alta. Se, invece, io clicco l'estensore, vedremo che già nel thumbnail la pagina, ecco ora è molto evidente, è stretta e lunga. Questa è dimostrazione del fatto che stiamo scorrendo verso il basso. Utile, ripeto, per i colleghi che adoperano la funzione specialmente matematica. Torniamo ai nostri profili. Ecco qua. Ora vediamo la sezione comandi. La sezione comandi consente di integrare i comandi che vediamo nella parte destra con altri. Di default il programma cosa fa? Aggiunge dinamicamente le funzioni, questo pannello, in base all'uso. Quindi, se usiamo molto spesso la macchina fotografica, qui comparirà l'icona della macchina fotografica, in questa terza colonna di lato. Qui vediamo la griglia, per esempio, il collegamento al link, la tendina. Questo perché sono stati usati molte volte. Possiamo anche, però, inserire noi delle funzioni. Per esempio, se ci serve la funzione calcolatrice, noi andiamo su tutti i comandi, quindi comandi, tutti i comandi, calcolatrice, aggiungi. Ecco che è, ora la evidenziamo meglio, ecco che la calcolatrice è stata aggiunta qui. Lo stesso si può fare per molti altri comandi. Non li elenchiamo tutti, ma sono naturalmente tutti i comandi del programma. Allo stesso modo si può fare l'inverso. Se, per esempio, non adoperiamo mai lo strumento Express Pool, effettivamente molto poco usato, perché richiede il possesso anche di altri strumenti di votazione, possiamo rimuoverlo e guadagnare spazio. Quindi lo seleziono, rimuovi. Avvia votazione, che è strettamente legato all'Express Pool, rimuovi. Oppure ci accorgiamo, nel tempo, che in porta da PDF è una funzione che non usiamo mai. Può essere utile, ma non usiamo mai. Quindi rimuovi. Benissimo. Se, giocando con queste funzioni, ad un certo punto pasticciamo l'area degli strumenti, possiamo, ecco, ripristinare a come era all'inizio. Pulsanti definiti dall'utente. Qui appare tutto vuoto. All'inizio è abbastanza inspiegabile questa situazione. In realtà, anche questa è una funzione estremamente utile. Il programma consente, infatti, qui, di inserire dei collegamenti ai programmi esterni, che so, Word, Excel, PowerPoint. Se, infatti, andiamo su Aggiungi, innanzitutto ci chiederà se vogliamo inserire un programma o un file, cioè un esecutivo, che so, Word, o un file, cioè uno specifico documento. Qui dobbiamo dire dov'è questo e dobbiamo specificare come richiamarlo, magari con una scelta rapida, che so, CTRL e B, CTRL e C. Molto utile. Naturalmente, ecco qui, avvia file in questo caso, è utile se ripetutamente usiamo dei programmi in combinazione con Active Inspire. Se usiamo unicamente le funzioni di Active Inspire, questa sezione possiamo non adoperarla. E poi le impostazioni. Qui sono impostazioni che potremmo non modificare mai. Per esempio, alcune sono molto specifiche, consenti la modifica degli oggetti bloccati, oppure sugli effetti, lo spessore, che so, delle forme, oppure sulla lingua, per esempio, che in questo caso è l'italiano, sui flipchart, sugli effetti. Insomma, possiamo utilizzare molte funzioni. Una volta ben impostato il nostro layout, possiamo salvarlo, ecco qui, salva profilo, e magari dare il nostro nome. Una volta salvato, il profilo comparirà tra questi. Ora, ha senso salvare il profilo unicamente se stiamo lavorando in un computer condiviso, in cui non siamo gli unici a usare Active Inspire, altrimenti ha senso utilizzare solo il profilo creazione e modificarlo sulla base delle nostre esigenze. Allo stesso tempo possiamo salvare un profilo naturalmente con un nome, eliminarlo in questo caso, oppure ripristinare come era all'inizio, nel caso in cui ci dovessimo accorgere di aver combinato qualche pasticcio nella impostazione dei profili d'uso. Grazie.